Scegli il tuo personaggio L'inizio di un lungo viaggio Trova la chiave e vai a sconfiggere il boss per ottenere la prima arma Questa non è la chiave Questa non è la chiave Per aprire questa cassa ti servirà un'altra chiave Ehi amico, come posso trovare la chiave del boss? Nella stanza delle cagate Stomfiggere il boss Scuoti il Joy-Con per fare l'attacco rotante Hai appena trovato la pistola rara Forza, vai in giardino e raggiungi la tua prossima missione Premi B per fare una mini-corsa Hai trovato un veicolo Premi X per salirci sopra La bici non può passare nel giardino Sali sul tappeto elastico Quando perdi vita durante i boss Potresti recuperare l'energia persa Salendo su uno di questi tappeti elastici Dunque Lombosi Iniziamo Iniziamo Per quale Iniziamo prendi la pistola e spara con X ai bersagli che si troveranno sul campo colpito 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 mancato colpito premi ripetutamente X per sparare a due bersagli in una volta doppio colpo riuscito ora sei pronto per affrontare una nuova battaglia boss con un'altra modalità prendi le munizioni e tirele contro il boss per rompergli l'armatura colpito 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 attento hai poche vite colpito continuo così manca solo un punto vita colpito colpito bravissimo bravissimo pronto per il secondo round colpito 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 colpito